Risorse per 24 milioni e mezzo di euro dal PNRR per la zona economica speciale in Val di Sangro. Un investimento importante che drena un terzo delle risorse complessive di settore destinati all'Abruzzo e che servirà per completare l'infrastruttura intermodale di Saletti Fossacesia. La notizia è emersa a margine della sigla del protocollo d'intesa ad attessa tra il commissario Zess e nove comuni aderenti al SUAP Sangro-Aventino per la semplificazione delle procedure autorizzatorie. A chiedere interventi migliorativi delle infrastrutture sono soprattutto le grandi aziende, dalla Sevel alla Honda. Interventi vitali è stato detto per il sistema automotive della Val di Sangro e in generale per tutte le imprese. L'Europa prevede di trasferire almeno il 30% del traffico merci dalla gomma alla ferrovia. Entro il 2030 spiega il direttore del Polo Automotive, Raffaele Trivilino. Inoltre, la carenza di autisti, di mezzi pesanti e il costo elevato del carburante rendono molto più conveniente usare la ferrovia, ma a tal fine sono indispensabili le infrastrutture intermodali. La stazione merci Saletti Fossacesia è una piattaforma di interscambio modale, attualmente è sottodimensionata e sono in corso lavori di piccolo ampliamento da parte della tua divisione ferroviaria ex sangritana, società pubblica che gestisce il traffico merci nell'area verso il Nord Italia e l'Europa.